Solidarietà sotto l'albero, anzi dentro la cesta, con Natale per l'Emilia, il progetto di welfare aziendale lanciato nel 2012 dalle cooperative sociali Eortè, Oltremare e Vagamondi, tutte aderenti a Confcooperative Modena. Tre cooperative, Eortè, Oltremare e Vagamondi, da alcuni anni, dal 2012, propongono questo progetto che si chiama Natale per l'Emilia, confezioni di natalizie per le aziende e per i privati disponibili presso i punti vendita delle cooperative, che raccolgono prodotti provenienti dal nostro territorio. Inizialmente e anche ora sono aziende che hanno subito danni dal terremoto del 2012, aziende biologiche e quest'anno l'iniziativa interessante è che parte del ricavato da questo progetto verrà devoluto per progetti di economia solidale delle zone terremotate del centro Italia. Come i consumatori e le aziende possono comprare questo regalo buono o che fa bene? Allora, intanto attraverso il sito internet di Natale per l'Emilia, a Modena si può comprare nella sede legale della cooperativa Oltremare, che è in via Emilio Ovest 260, oppure venire nelle nostre botteghe, che sono a Modena e in Calle di Luca. Poi abbiamo una bottega a Bazzano, a Vignola e a Pavullo. Lì si possono ordinare e scegliere le cassette che hanno diversi valori a seconda delle cose che ci sono dentro. Com'è nata questa bella iniziativa? È nata innanzitutto dal desiderio di fare rete e secondariamente dal desiderio di solidarietà nato appunto dall'emergenza del terremoto del 2012. Da lì poi la prosecuzione per progetti solidali territoriali che si sono sviluppati nel corso degli anni, ogni anno con una finalità diversa. Quest'anno, vista l'emergenza appunto del terremoto del centro Italia, la solidarietà andrà rivolta a queste popolazioni. Gli anni precedenti, l'anno scorso è stato finanziato per Mirandola, un progetto di laboratori musicali e l'anno prima il comune di Bonporto. Per Conf Cooperative questo è un progetto di orgoglio, nel senso che coinvolge cooperative sociali, in particolare tre cooperative, ma coinvolge anche cooperative che producono, ad esempio, anche il parmigiano reggiano. Ci sono due caseifici che furono colpiti dal terremoto, dal sisma del 2012 e si ritrovano ad essere fornitori, quindi con opportunità dentro a questo progetto. Ovviamente per noi è la testimonianza di come la cooperazione può fare progetti di intercooperazione a sostegno e solidarietà di chi ha avuto meno fortuna di altri. Chiaramente Conf Cooperative Modena sarà in prima fila, perché quest'anno acquisteremo anche noi le ceste di Natale per l'Emilia per dare il nostro piccolo contributo a chi ha avuto il sisma due mesi fa.